In nome del Padre, Fio e Spirito Santo, Amen. Allora, buongiorno a tutti, ore 15 e 25 di lunedì 22 marzo 2021, oggi ho il mio cuore a Castelpetroso, lo dissi pure l'anno scorso, lo dissi nel video, domenica 22 marzo, era la quarta domenica di quaresima, nella carcerazione domiciliare, disse questa cosa. Oggi potevo andare a Castelpetroso, ma c'entro fra una settimana a Campobasso, con la mia carissima venerante a bizzocaccia, Anna, praticamente, Anna. Allora, io volevo oggi fare un altro video inerito, di questi video, stanno avendo visualizzazioni delle interviste, ieri con Chiara, con Anna Casale, eccetera, però non i video personali, vedeteli perché sono molto importanti. Commenterò un articolo dell'anno scorso, di settembre 2020, di Chiesa Viva, di Francesco Lamentola, su Bergoglio e Conte. Buona lettura. Allora, praticamente, questo è il numero di settembre 2020 di Chiesa Viva. Andiamo avanti, andiamo avanti. La Vergine Maria, sacrificio della Messa, poi vi leggerò questi articoli bellissimi di Chiesa Viva, scritta franca ad esse del discepolo di Padre Pio. Eccolo qui, questo è l'articolo. L'inferno esiste, a voi spetta un posto in prima fede. Francesco Lamentola, vedete qua? Jorg, Mario Bergoglio e Conte. Avete aver costretto migliaia di persone donne a morire tutti soli, tutti soli e disperate, ora congiunti, a non poter stare vicino a rocare sul punto di andarsene, a un diritto di tale gravità da gridare al cospetto di Dio, praticamente. Allora, andiamo avanti. Per non dimenticare, erano a distanza dal primo furioso, ferocissimo lockdown, una signora a 68 anni, affetta da un tumore in fase a 6 avanzata, e mancata a marzo, presso l'ospedale di una piccola c'è del nord. Per non dimenticare, possiamo anche precisare dove, non nell'affolatissima Lombardia, non in provincia di Bergamo e di Moriana, ma in Friuli, c'è una zona dove l'emergenza si fa sentire in modo a misura a quanto attenuata. E' un certificato di morti, il medico ha scritto che ha deciso da causa del Covid-19, si sa che le istruzioni sono quelle, bisogna confermare al massimo i cibi per dare l'impressione che ci sia davvero una vernemia da coronavirus, perché solo così le sproposità dei folli e delresionisti che mi sono trattato al governo appena finalmente giustificate, e stiamo continuando il lockdown perpetuo. Non è tuttavia su questo aspetto della questione che desideriamo soffermi, perché proseguiamo il racconto. La figlia e la signora ha raccolto i vestiti di sua mamma e si regala all'ospedale per vestirli. In vista della cerimonia fumele per dare l'ultimo saluto. Qui giù si è visto negato l'accesso alla camera mortuaria. Si è vista negata l'accesso alla camera mortuaria. Dovuto tornare a casa senza aver potuto vedere la mamma. Il corpo una defunta è stato infilato dal personale a spiegare in un sacco di plastica e poi andò via con la massima urgenza. Diamoci conto. La figlia pensava almeno di poter salvare una mamma durante il funerale, pur sapendo se sarebbe svolto in forma estante di riservato, mi spiegava anche in questo, perché non c'è stato alcun funerale. Senza neanche domandare le autorizzazioni, le autorità sanitarie hanno disposto alla pronta cremazione del cadavere. E solo così, giorni poi, la figlia si è vista con signora all'interno del quale erano delle ceneri. Rendiamoci conto dell'orrore, per non dimenticare quello che è stato fatto l'anno scorso, quelle sono le ceneri di sua madre. E qualcuno pensa che questo personaggio qui, questo personaggio qui è investito dallo Spirito Santo, questo personaggio qui è Satana, è Satana. E' da 60 anni che è questo, è il suo alter ego. E adesso c'è Draghi. Quei sono le ceneri di sua madre, le hanno delle dette. Per quello che ne sapeva lei, avrebbe potuto essere le ceneri di chiunque. Così è lo strazzo perdita di un congiunto, la beffa di avversità, la falsificazione, certifica di morte, perché bisogna chiamare le cose con il suo nome. I casi del genere sono dei falsi in atto pubblico. La figlia è immedicabile, di un'ultima vestizione nega, di un funerale che non c'è, e di una cremazione non voluta né autorizzata. Vediamo questo articolo ottimo di Francesco La Mente, è un orrore. Quando alle ceneri vi è un grandissimo numero di persone che non prova alcuna consolazione dal fatto di versere consegnare, che non approva la cremazione in se stessa. Io feci un video di questo orrore, anche un articolo, l'anno scorso, perché contro la dottrina della risurrezione dei corpi è stata tutta la nostra tradizione religiosa e culturale. E così l'ha sempre pensato anche il Clare, almeno fino a questo sciagurato pontificato, che non saprebbe dove mettere le ceneri estremamente a disagio l'idea di conservarli in casa, che vorrebbe come potersi regalare al ceneri per avere una tomba su cui piangere e portare dei fiori, come tutti quanti noi, come a tempi immemorabili si usa per la nostra cultura. Quella figlia si porta dietro per tutto il resto della sua vita il trauma di non aver potuto vedere sua mamma per l'ultima volta, di non averla potuto vestire per l'ultimo viaggio, di non averle potuto accompagnare al ceneri, di non aver avuto una tomba presso la quale recarsi per ricordarla. E come lei ci sono centinaia e migliaia di persone che hanno fatto o meno hanno subito un'esperienza di me al nostro paese, tutto grazie a chi? Grazie a questi due loschi personaggi. Questi due, vedete? Questi, questi. Andiamo avanti. E' come se una milionaria tradizione di civiltà nella quale si è spenuta la tenerezza doverosa a piedi a sede vivi nei confronti o rocari dei fondi fosse stata schiacciata e fatta letteralmente a brani sotto i cinque di un cavo armato. In nome di che cosa, poi? Di una pandemia che non ci è mai stata di un'emergenza generale ingiustificata e creata d'arte elementata con la menzogna e col terrorismo psicologico e continua ad essere la menzogna della stessa moda di senza un anno. E ora proviamo a consigliare la cosa sotto un altro punto di vista, quello di coloro che ne sono andati. Come saranno stati gli ultimi giorni di via di quella povera signora? Nel piccolo ospedale cittadino friuliano. Nel momento dell'angoscia e la sofferenza resta usata il solo conforto da cui aveva bisogno, quello di avere accanto una persona cara, un familiare, che tenesse la mano e le asciugasse la fronte e bagnava di sudore. Nella sua coscienza indebolita non c'era alcuna possibilità che si facesse stare il pensiero di un individuo legale che impediva la figlia di venire lì da lei ogni giorno, come entrambe avrebbero desiderato. L'unica cosa che la sua povera mente avrà potuto registrare sarà l'assenza dolorosa di quella fisica, il suo spiegabile silenzio. E così ha dovuto affrontare il passo più difficile, quello oltre alla porta della morte. Senza aver sostegnato la dolce presenza, è l'unica persona che avrebbe potuto confortarla, è l'unica persona di cui la coscienza annebbiata poteva ancora percepire la presenza dell'assenza, anche se gli occhi e il corpo non erano più in grado di registrare le immagini. Ma a un momento si può parlare in tante maniere, anche se lo stringendogli affettosamente la mano o facendogli una lieve carezza. Ma a un morente si può parlare in tante maniere, anche se lo stringendogli affettosamente la mano o facendogli una lieve carezza. Aver lasciato quella signora, tutta sola, in mezzo ad estranei, ad affrontare la crisi e la morte, è lasciata in quelle quali condizioni ci indignano i migliai di persone, non sapremo forse mai esattamente quanto è un altro delitto che si deve imputare a questo governo di irresponsabili, di incapaci, di delinquenti. È un altro delitto che si deve imputare a questo governo di irresponsabili, di incapaci, di delinquenti. Non diciamo di imbecilli, perché nonostante non potevano ignorare la portata Euroatti. Per quanto ignoranti e pasticcioni, per quanto maldestri e confusionali, tuttavia sapevano benissimo quale prezzo avrebbero dovuto pagare i danni. Quelli li rigovernano gli ospedali, e proprio di più, è tutto per favorire gli interessi di spreggevoli speculatori finanziari del genere di Bill Gates, come i bramosi di spiazzare sul mercato i loro vaccini brevettati. E quello che sta succedendo adesso. Mai nessun governo, nemmeno le più troci dittature, aveva osato tanto. Mai nessun governo, mai. E sono d'accordissimo con Francesco Lamedola. Ecco qui, Gesù crocifisso da solo, praticamente. Nessuno, neanche nella Germania e Hitler, l'Unione Sovietica di Stalin, ha dovuto subire un simile trattamento, tranne il caso di persone che erano state individuate o arrestate per ragioni politiche. Ma l'insieme della popolazione, neppure sotto il nazismo e il comunismo, attenzione, aver cosiddetto migliaia di uomini e donne, morire tutti soli e disperati, e loro coniuti, e non poter stare vicini ai loro colcari, sul punto di andarsi, non delitti dalle gravità, da gridare a cospetto di Dio. Cari membri del governo eletto, vi siete caricati del spazio responsabile che se fossero i nostri e i nostri panni, non ci permetterebbe di dormire la notte. Voi vi siete spinti oltre e oltre, avete passato il segno, negando una morte umana e delle seguite centi a migliaia di persone. Vi siete immacchiati di un crimine che non può essere perdonato. Avete calpessato il dovere altrui, avete ridotto a numeri senza immagini delle persone in carne e ossa, però poi nel momento è la loro maggiore fragilità, quello di chi sta per morire per gli uni e di chi sta per perdere la persona amata per gli altri. Anche noi sappiamo di essere percati, perché tutti io me lo sono, ma il vostro perché è di notare la gravità, anche perché è assolutamente cosciente e intenzionale da evocare le più buie profondità dell'inferno. Perché sapete che l'inferno esiste, anche se voi non ci credete, o se ci credete a maniera falso proprio a Bergoglio, cioè fate finta di crederci nel rispetto delle convenzioni e conto all'improntitudine di essere cattoliche per sé perfino dei voti di Padre Pio, una vergogna assoluta, benché si sia convolta verso le chiese per essere venute come forse solamente le lanziche necche che avevano fatte nel 1527, ma come neanche i nazisti saranno fare allorché occuparono Roma nel 143. Non ci risulta che le SS si entrate nelle chiese che abbiano minacciato in pauriti i fedeli durante la Santa Messa, non è che abbiano così l'intera popolazione a subire questa violenza disumana, abberrante, impedire i congiunti dei stessi lavoratori cari che stavano morendo all'ospedale, proibili loro di vestirli e di seguire la barra al cimitero. Questo deve fare riflette a questo articolo, attualissimo. Nemmeno nel corso delle guerre pietroci del passato, nemmeno durante le pestigenze per la storia di un secolo oscuro si era mai visto niente del genere in un paese cristiano, anzi nella culla stessa della civiltà cattolica. Voi pertanto, e continua Francesco Memento, vi siete mancati di un peccato tremendo, avete oltraggiato in Italia la santità della persona umana e la quale vi è riflesso di Dio stesso. In quella vera signora si stava spiegando di tumore, in quella povera figlia che credeva solo di poter comporre il corpo di sua madre con le proprie mani. Voi avete oltraggiato lo spirito di Dio che abbia ogni credore umano. Se i tempi non fossero quelli che sono, se l'ignobile, falso, clero, bergogliato, non si fosse prestata più che volenderosamente alla vostra infame strategia antiumana e anticristiana, i papi vesco e i cittadini avrebbero scomunicati, avrebbero lanciato contro di voi la più terribile delle maledizioni. Perché offendendo lo Spirito Santo chi abita ogni anima, voi avete oltraggiato quello che è il peccato dei giudei praticamente, voi avete oltraggiato quando ceppi di più sacra al mondo e vi siete caricati la coscienza di una colpa imperdonabile, secondo le parole stesse di Gesù Cristo, Matteo 12, 3, 9, 3, 2, qualunque peccato e bestemmia saranno a perdonare agli uomini, ma la bestemmia contro lo Spirito Santo non sarà perdonata, a chiunque parlerà mai del figlio dell'uomo sarà perdonato, ma contro lo Spirito non gli sarà perdonato né in quello secondo né in quello futuro. Noi non vorremmo essere al vostro posto neppure se ci offrissero in campo tutto il mondo, le vostre azioni vi hanno condannati e l'angoscia di quella donna, confinata in una solitudine inumana, a momento della prova più difficile, vi accusano a giudizio e dove di quella figlia proprio privata perfino nel conforto di un funerio cristiano di una tomba per sua madre, vi accusano a giudizio. Dovreste trattemare fin da ora pensando al destino che vi attende. Guai a voi, animali malvagie, guai a voi. Ci piacerebbe sapere come vi siete regolati, se in un letto d'ospedale ha fatto una mattina e in fase di terminare ci fosse stata la vostra madre. Domanda ingenua peraltro. Prima di tutto perché voi e le vostre famiglie non ricorreremo certo alla sanità pubblica. Voi non siete come i comuni cittadini che per fare una visita specialistica si mettono in lista d'attesa, aspettano tre mesi. Se i vostri anziani genitori devono fare il classico intervento della cataratta, aspettano da sei mesi a un anno. Voi i vostri casi avete un sereo problema di talute di quelli della sanità privata. Preferirei andare all'estero? Come minimo vi fate raccomandare presso qualche primaria o specialisti di quelli bravi. Onde al primo asino calzato e vestito che è imperverso in anti-ospedale. Voi non rischiate certo di finire tra le 50.000 persone che ognuna perdono la vita in qualche studio sanitaria a caso di un'infezione incontrata durante la diligenza e la terapia e delle quali la stampa e la televisione di regime non parlano mai. Più facile fare delle migliaia di morti immaginari per il Covid-19 è l'argomento del giorno e se per caso qualcuno volete sfare l'inganno sui massimo non ci arriva di sicuro a fastidare la sua voce. Ogni caso, se i vostri genitori, le vostre moglie, i vostri figli vengono ricoverati in ospedale con i sindomi del Covid-19 non riescono di morire a caso della smania e di intubare i pazienti con difficoltà di svegliare come è accaduto a migliaia di persone non saprò mai esattamente i giorni di regime che a marzo parlavano della drammatica scarsetica per il chiove per l'intubazione o hanno talmente lasciato cadere la questione segno che l'errore è stato compreso anche se non verrà mai ammesso. Se poi vengono ricoverati per altre patologie non rischiano di morire per i tardi l'approssimazione di terapia e conseguenza indiretta ma certo dell'aver concentrato tutta l'attenzione su quell'altro tipo di pazienti secondo licenza del tragico copione. No, né voi né i vostri cari rischiate mai dal punto di vista sanitario o quel che può cadere al cittadino comune. Voi siete ben al di sopra delle sorti dei cittadini comune. Proseguiamo in un altro mondo in un altro tipo di case fate un altro genere di vacanze le difficoltà di sparare in un barrizzo di un barrucchiere così a chiudere il cizzo per tre mesi e continuano a stare chiusi oggi nelle zone rosse voi non sapete ma nemmai sapete cosa vogliono dire. Adesso chiedessi cosa avreste fatto nei panni della via di quella signora dei cittadini nel piccolo ospedale Friurano perché voi in quei panni non ci troverete non vi ci troverete mai figuriamo basta fare le vostre magnifiche chiomi i vostri capelli perfetti e tagliati tinte e messi in piego la chiusura dei parrucchieri non è vero signor Conte che bel tè che bella essi in ordine signor primo ministro e come le sta bene le pochette nel taschino della sua giacca tagliata su misura e se non vi vede come la gente comune se non sapete fare nemmeno i più piccoli sacrifici che prendete che prendete ai cittadini come quello di lavarvi i capelli e di tenerli lunghi fino a quando i parrucchieri non hanno avuto la facoltà di riaprire inoltre inutile chiedere se sarete mai disposti a fare sacrifici grossi anche in termini di stipendio se milioni di persone sono otte in povertà anche per me dei vostri sciacolari decreti di leggi che hanno distrutto l'economia italiana e continuano a distruggerla non è mica un problema vostro voi lo stipendio non la avete sicuro e generoso e così pure la pensione e se quella vostra signora è stata lasciata morire tutta sola abbandonata come un oggetto inutile e se quella fine non ha potuto darle l'ultima salute neppure quello è un problema vostro cose del genere a voi non accadranno mai la vostra filosofia è quella armiamoci e partite state pure voi tra tranquilli che nessun gesto nessun comune nessuna omissione scivano via così nel vuoto col trascorrere le idee del tempo anche quello che possono sfuggire alla giustizia di domanda non sfuggono certi a chi tutto vede e tutto conosce e di che a chi si cegano in fondo alle tenebre dell'anima a lui dovete render conti per delle inconfessabili ragioni che non c'entrano nulla con il bene comune venite a imparare perdono prima che arrivi la sera della vostra vita poi sarà troppo tardi è un grande articolo e termino con queste immagini di Gesù bisogna avere timore e terrore di lui come ieri quando urlava ai giudei ai giudei praticamente che lo chiamavano indemoniato prima che avremmo fosse io sono nella prima domenica di passo nel Veto Sorda Ave Maria grazie a me stai con me e dica tu mogliere e tu ben ora per nobis peccoribus e nunc e ti ora mortis nostri Amen Gianluca Martoni vi saluta e mediamo su questo bellissimo articolo per non dimenticare gli orrori del governo conte della chiesa di Bergoglio Amen